Ciao amici di Pizzapan e Fantasia! Quando le temperature si alzano notevolmente, impastare diventa quasi una sfida. In questo video quindi vi mostrerò come gestire ed incordare al meglio un impasto con temperature di chiusure sempre ideali. Per ora vi anticipo i passaggi fondamentali, poi durante il video troverete la descrizione di ogni step in modo abbastanza dettagliato. Numero 1. Acqua quasi congelata, se c'è ghiaccio che siano pezzi molto piccoli. Numero 2. Se mettete la farina in frigo qualche ora prima, assicuratevi di utilizzare un contenitore ermetico così che non prenda umidità. Numero 3. L'immissione dell'acqua sarà come sempre fondamentale. Deve essere quasi costante per velocizzare il processo e allo stesso tempo mantenere bassa la temperatura. Quindi ora non ci resta che spostarci sul piano di lavoro. Grazie a tutti. 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 Il metodo che vi ho appena mostrato è davvero molto interessante. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se ti va lasciami un graditissimo like e ci vediamo al prossimo video. Ciao.